Ciao a tutti voi, siamo pronti a farvi una dimostrazione di un cartablet molto particolare perché parliamo di una Lexus NX300H e la Lexus si sa è una macchina un pochino particolare perché ha impostazioni particolari, ma andiamo subito al dettaglio perché il nostro prodotto va a recuperare tutte le funzioni originali, in questo caso siamo sulla dashboard, possiamo sfruttare anche il joystick originale come sto facendo io, possiamo accedere a Maps, YouTube, ormai conoscete a memoria tutti i nostri prodotti, eccoli qua, abbiamo anche un DSP, processore sonoro, dove il cliente potrà settare tutte le impostazioni, ovviamente possiamo usarlo anche in touchscreen, nel momento in cui vogliamo andare nella sezione originale, cosa importantissima per il cliente perché ha la sezione ibrido, aria condizionata, tutto ciò che è originale rimane in essere, siamo pronti? Ecco qui, ad esempio andiamo su impostazioni veicolo e andiamo a vedere la gestione dell'ibrido, fondamentale per il cliente, torniamo indietro, possiamo andare a info, queste sono informazioni, va bene, USB della macchina, display, audio, audio torniamo in aux, poi a destra come vedete tutta la gestione del climatizzatore, nel momento in cui vogliamo ritornare in Android è semplicissimo, tac, siamo pronti per Android, abbiamo recuperato la retrocamera originale, eccola qui, linee guida, torniamo indietro, ovviamente parliamo di un top di gamma, Android 13, 8 GB di RAM, 128 GB di ROM, Apple CarPlay, Android Auto in Wi-Fi e abbiamo recuperato anche tutta la console dei comandi al volante. Vi ricordo che tutti i nostri prodotti sono disponibili verso il nostro shop, grazie mille a tutti voi.